In questo giro, ecco la vittura che vi presenta in questo box l'ACA in campo libero a Caneri e Grossman, a Roma via via, per l'anato del 2012 che sta in schiando, sembrano che si presenterà. In spettimento per lo stand, il capito Grossman, il primo vento, 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 il primo vento. Il primo vento 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 Il primo vento